Porta la tua attività sulla più grande web tv della provincia di Pavia. Mezzo milione di persone hanno guardato JabTV nell'ultimo anno. In poche settimane potrai raggiungere un pubblico molto ampio in modo creativo ed originale. La tua pubblicità comparirà su migliaia di computer, smartphone, tablet e smart tv a prezzi mai visti. Scrivi ora senza impegno a spot.jabtv.it o chiama al numero 320 22 45 117. Ora è 21 e 30, qualche sera fa faccio un giro da sola nel piazzale della stazione di Voghera per una mezz'ora e nei giardini. Può darsi che ci farò un altro giro, capiterà forse. Io tutto sto degrado non l'ho riscontrato e proverò anche in altre aree segnalate. Anzi mi è sembrata una bella stazione e pulita molto meglio di tante altre. Sono le dichiarazioni di Marina Zaretti, assessora alla cultura del comune di Voghera, diffuse attraverso la sua pagina Facebook e riprese anche da noi, da JabTV, nei giorni scorsi. Lei è d'accordo con quanto ha detto l'assessore o no? No, no. Non è d'accordo, come mai? Non vedo delle cose che non mi piacciono, perché qui, se sta qui veramente, vede delle cose che sono insopportabili. Ci vuole fare magari qualche esempio per capire meglio? Lo capiamo, quei africani qui, io non sono un razzista, per ogni uno ne farei due. Quindi lei dice che queste persone portano degrado? Degrado, degrado, degrado. Erano qui adesso, sono stati via in tre o quattro. E in quale modo portano degrado? Lasciano magari sporcizia oppure in altro modo? E poi io li odio. Nel mio in non mi piacciono. Puzzano. E ci sono tante cose che non... Quindi è più un problema di immigrazione, diciamo. A livello invece di pulizia, trova che sia pulita la zona oppure no? Non troppo, non troppo, non troppo. Non è che sia quello che dice la signora. Vivo Voguea da 50 anni e vedo un cambiamento enorme. Lei verrebbe mai a vivere in questa zona o magari ci vive già? Questa zona non mi piace, vengo qui proprio per stare un po' all'ombra e via discorrendo. Che ci sono un po' di piante, un po' di verde però dice non è... Se trovi delle persone che ti danno fastidio mi alzo e vado via. Le è mai capitato che le dessero fastidio? No, 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 no. Per adesso no. Meno male, meno male quello. No, non sono d'accordo per niente, non sono pulite per niente, c'è tutto sporco. No, no, secondo me no, ci vorrebbero più pulizie. Quindi trova che non sia una stazione pulita? No, no. Io sono più di dieci anni che vado avanti e indietro ma non è pulita, veramente. Secondo lei quali sono le situazioni più critiche in questa zona? Guardi, lasci stare, c'è mozziconi, ci sono carte, c'è di tutto, bottiglie. Lei avrebbe paura a girare qua la sera? Come mai? Come mai? Perché io vado a lavorare ad Alessandria, non adesso ma d'inverno. Io ho paura da sola, infatti mi faccio accompagnare sempre da mio figlio. Di cosa ha paura? Soprattutto di essere comunitari, perché ci sono tantissimi, tantissimi. Ha paura che possano aggredirla in qualche modo? Perché è successo tante volte, l'anno scorso almeno è successo due o tre volte. Secondo lei ci sono sufficienti controlli da parte delle forze dell'ordine? No, almeno io non ne vedo. Quindi andrebbero aumentati anche quelli? Per me sì, soprattutto la stazione, non tanto magari per una ragazzina, una signora. Secondo me l'opinione è assolutamente sbagliata. Innanzitutto se vi guardate intorno potete avere un'idea di com'è la situazione. Erba alta, non ci sono cestini, panchine della stazione Marce vecchie decrepite, centralino taxi rotto da mesi. Io credo che Voghera sia l'unica città dove il servizio pubblico non è seguito dall'amministrazione comunale in modo corretto. Perché non possiamo avere un centralino taxi quindi con disagio da parte dei clienti. Specifichiamo che lei lavora qua come taxista? Sono una taxista, quindi reclamiamo su questo fatto per il quale abbiamo appunto avuto adesso di recente un incontro con la Marina Zaretti. Dall'esito? Dall'esito faremo, faremo. Cioè noi intanto perdiamo soldi. Cioè hanno ricevuto un preventivo per aggiustare il centralino. A questo punto potremmo mettere anche fuori noi poi un preventivo a loro per la perdita di denaro che stiamo avendo da mesi. Quindi disagio da parte dei cittadini che non hanno il servizio taxi, che peraltro è pubblicizzato nei cartelloni, negli ingressi della città. E disagio nostro perché noi lo vediamo lampeggiare e non possiamo rispondere e interagire col cliente. Quindi ci viene ancora di più nervoso perché perdiamo soldi. Lei ha paura a lavorare qua invece? Guardi, questa è una domanda che mi viene fatta spesso essendo donna, mi viene chiesta questa cosa. Paura? Io personalmente no. Lei crede che sia sufficientemente controllata anche dalle forze dell'ordine? Controllo delle forze dell'ordine, di polizie e carabinieri? Sì, perché io vedo spesso passare delle volanti. Secondo il mio parere potrebbe essere un pochino più controllata, visto che abbiamo una polfer qua in stazione. dovrebbero, secondo me, poi non so se rientra nelle loro mansioni, potrebbero magari oltrepassare il piazzale e girare un po' maggiormente nei giardini e tutto quanto, anziché limitarsi solo alla stazione. Poi magari non gli compete, però sarebbe una sicurezza maggiore anche da parte nostra. Secondo lei questa è una zona in cui si può vivere tranquillamente, lei verrebbe mai a vivere qui in questa zona oppure no? Nella zona della stazione? Sì, probabilmente sì, non uscendo però la sera. Non uscendo la sera, quindi la sera meglio di notte. Sono qua di notte e si lamentano proprio della pericolosità degli elementi che a volte devono caricare e sono uomini loro. Grazie.